Ci sono delle possibilità di utilizzare una retorica e un armamentario diverso per far camminare i diritti in una direzione giusta. E allora, e soprattutto dicendovi una cosa, quando Caramandrei, l'ex, uno dei grandi sconfitti, nonostante tutto, della Costituzione del 48, perché la cultura azionista fu sconfitta in quell'ambito, disse in modo, non si capisce se ironico o sprezzante, Togliatti scambiò la rivoluzione mancata con la rivoluzione promessa. Disse una cosa che io, che a me era molto colpito a suo tempo quando studiamo queste cose, bene, io voglio che la rivoluzione promessa nella nostra Costituzione sia mantenuta. E siccome la rivoluzione è promessa in quella Costituzione, ritengo che sia un errore quello di dire che la Costituzione non serve più, utilizziamo qualcosa altro. No, utilizziamo questa e facciamo mantenere la promessa rivoluzionaria che in quel testo è contenuta. Grazie.